Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Beh sono state, erano particolarmente, particolarmente angosciose se si pensa che avvenivano lo stesso giorno e nelle stesse ore nelle quali Giorgia Meloni faceva da pilota su un caccia F-35 in Piazza del Popolo con classi di bambini organizzate in modo da gridare e cantare Giorgia Meloni, Giorgia Meloni. Ecco, è una cosa di una tristezza immensa perché il problema non è fare la sciocchezza molto parafascista di celebrare la leader sull'aereo della caccia, è veramente soltanto una sciocchezza. La cosa che fa, sì lo so, ma intanto non si riusciva a portare arriva il corpo di una persona vorrente e intanto poco prima, e c'erano peluche in Piazza del Popolo, poco prima altre peluche, ma poco prima, due giorni prima, tre giorni prima, erano di bambini morti perché non si era fatto in tempo a salvarli né con gli F-35 né senza gli F-35. Quindi quando succedono delle cose di questa gravità se ne prende nota, se ne fa carico, se ne parla con i cittadini, si condivide il dolore, si cerca di far capire che cosa sta succedendo, si cerca di dire che non è il discorso breve, sciocco e senza senso che da anni Salvini fa piovere sull'Italia che risolve il problema di cui stiamo parlando. Non ti voglio interrompere, però perdonami, quello che diceva Augusto era esattamente l'opposto, cioè è un problema enorme, epocale, strategico, che non è che si affronta nel giorno per giorno, si affronta con una linea condivisa di lungo termine, certamente anche questo governo ha potuto posizioni a mio parere molto ideologiche, però insomma forse non possiamo imputare al fatto che ieri pomeriggio Giorgia Meloni celebrava i 100 anni dell'aeronautica in Naufragia, mi sembrano due cose da non mettere così in parallelo, non lo so, sentiamo anche Specchia cosa ne pensa. Io le metterei in parallelo, perché se io ho il giusto dovere nei confronti dell'aeronautica di partecipare a una celebrazione, come ha fatto anche il Presidente Mattarella, non dimentico che cosa intanto sta succedendo, sta accadendo nel mio Paese, che io sto dirigendo, di cui sono la responsabile, ho messo la firma sotto quella giornata in cui la donna non si riesce a portare...